Bene, grazie per avermi dato la parola, ringrazio ancora l'Ordine degli Psicologi del Veneto per l'invito e mi accingo a condividere con voi queste semplici riflessioni. Non è falsa modestia ma in realtà oggi pomeriggio, anche oggi pomeriggio abbiamo sentito dei contributi veramente notevoli. Io modestamente vi porto l'esperienza del medico di medicina generale o del medico di famiglia perché a me piace decisamente di più questa definizione che calza tra l'altro perfettamente anche con l'ambiente e il tema che stiamo trattando. La mia comunicazione consta di due parti, nella prima parte ho cercato un po' di stabilire il contesto, le regole, le norme dentro le quali ci muoviamo. Mentre nella seconda parte vi porto proprio l'esperienza diretta del medico di famiglia e cercherò di farlo, lo farò anzi in una maniera molto sincera, senza raccontarvi e fare voli pindarici, senza dipingere la realtà che vorremmo ma dicendo la realtà così com'è e come il medico di famiglia di cui tento di essere appunto portavoce la vive realmente. Allora, la gestione domiciliare del fine vita. Questo aggettivo domiciliare innanzitutto mi ha incuriosito e quindi sono andato a vedermi l'etimologia della parola domicilio. Allora vedete che io penso che la parola certamente è stata scelta accuratamente, vero Laura? Perché vedete che il domicilio è proprio il luogo dell'interazione, il luogo dell'abitudine, il luogo della consuetudine, dello stare al mondo in modo continuativo. Questo è dall'enciclopedia Treccani. Quindi è il luogo dell'intimità. Quindi la gestione domiciliare del fine vita significa agire nel luogo dell'intimità della persona. Il luogo, il domicilio, dove la persona ha vissuto in modo continuativo e ha stabilito le sue relazioni. Quindi non è un fine vita ovunque, comunque, ma è un fine vita gestito in un sito ben preciso, con delle connotazioni ben precise, che sono il domicilio. E ci siamo già detti tante volte in questo convegno che certamente, credo, ne siamo tutti persuasi, dove ve ne siano le condizioni e, ahimè, lo sapete benissimo anche voi, purtroppo per vari motivi le condizioni non ci sono sempre, ma è assolutamente condiviso e condivisibile che ogni malato, quale che sia la causa della sua morte, non solo il malato oncologico, desideri e preferisca morire a casa. Quindi concludere la sua parabola proprio nell'ambiente più intimo e che gli è più familiare. E direi che proprio per questo ci sta il medico di famiglia in questo contesto, non per vantarsi, lo dico con assoluto rispetto per tutti gli altri colleghi medici, oltre che per gli altri professionisti sanitari. Ma perché tra tutte le figure mediche, il medico di famiglia è il medico che più di ogni altro frequenta il domicilio del malato, naturalmente ben prima del fine vita. Andare a casa dei malati, entrare nelle famiglie, è una delle nostre caratteristiche, è una delle note proprio costitutive, in qualche modo, del nostro lavoro. E che dà proprio quella connotazione che tanto ci accara e che tanto ci agevola nello stare a fianco dei pazienti, anche e particolarmente nel fine vita. Vi dicevo che vi volevo portare le regole del nostro agire. E le regole sono scritte nel nostro codice di deontologia medica. Quindi rapidamente vi ho riportato gli articoli dell'ultima versione del codice che è stata liberata a maggio 2014, dove per esempio nell'articolo 3 si parla tra i doveri generali e le competenze del medico la tutela della vita, della salute psicofisica della persona e poi naturalmente il trattamento del dolore e il sollievo della sofferenza. L'articolo 16 poi mette e specifica il modo in cui il medico svolge e adempia i suoi doveri senza intraprendere né insistere in procedure diagnostiche e interventi terapeutici inappropriati dal punto di vista clinico ed eticamente non proporzionati dai quali non ci si possa fondatamente attendere un effettivo beneficio per la salute e un miglioramento della qualità della vita. Altra cosa fondamentale è il controllo efficace del dolore ritorna più volte nel codice deontologico questo must, questo dovere in ogni condizione clinica. La relazione di cura è ben evidenziata nel codice di deontologia medica e questa relazione di cura il termine relazione penso sia stato usato alcune decine di volte oggi, da questa mattina qual è il contesto di questa relazione di cura il medico nella relazione persegue l'alleanza di cura fondata sulla reciproca fiducia e sul mutuo rispetto dei valori e dei diritti ecco mi permetto qui di fare una piccola sottolineatura credete non per esaltare come dire la declinazione dell'arte medica che pratico che ho l'onore di praticare ma perché questo è realmente uno dei grandi degli enormi e forse anche invidiati vantaggi del medico di famiglia cioè il fatto che la consuetudine la conoscenza della persona e della famiglia consente a me medico di famiglia di stabilire delle regole di ingaggio con il paziente che credo con più difficoltà il paziente oncologo piuttosto che pagliativista piuttosto che il chirurgo che per primo si confronta con la malattia oncologica si trova a mettere in pratica con i pazienti perché appunto piano piano nel nostro rapporto che a volte arriva a svilupparsi anche per un trentennio anche se non è il mio caso insomma non sono ancora così anziano però è evidente che pian piano si sviluppa e si consolida questa reciproca fiducia si consolida quella conoscenza reciproca che ti consente di sapere quali siano i valori quali sia il modo di pensare di quel paziente e vi posso garantire che anche se all'inizio mi sembrava improbabile e quasi incredibile però adesso io lo posso sostenere non lo dico con presunzione io so qual è il pensiero dei miei pazienti tante volte prima ancora che loro si esprimano io riesco a intuire perché loro me ne hanno dato la possibilità intuire quale sia la loro posizione quali sia il loro pensiero quali siano le loro aspettative altro requisito fondamentale previsto espressamente dal nostro codice deontologico è la continuità delle cure e questo è un elemento estremamente importante perché il fine vita è veramente un banco di prova di questa continuità naturalmente lo è sempre lo è quando ahimè tocchiamo con mano quella quella gravità di alcune malattie magari proprio delle malattie oncologiche che che sinceramente ti farebbero scappare da qualsiasi altra parte piuttosto che stare là ma lì noi dobbiamo esserci e lì nel momento in cui adempiamo a questa continuità delle cure noi adempiamo alla nostra missione cioè siamo e facciamo esattamente quello che dovremmo essere ecco e quindi ancora più dettagliatamente articolo 39 il medico non abbandona il paziente con prognosi in fausta ma continua ad assisterlo e se in condizioni terminali impronta la propria opera alla sedazione del dolore al sollievo delle sofferenze e prosegue nella terapia del dolore e nelle cure palliative ecco quindi tutto quello che ci siamo detti vedete che ha queste radici proprio in un codice che il medico è tenuto espressamente a rispettare adesso vi racconto come dicevo passiamo alla seconda parte quali sono le caratteristiche del mio lavoro ecco è un lavoro che mi consente di conoscere il paziente ma non solo anche la famiglia del paziente e anche le dinamiche che ci sono in quella famiglia perché succede esattamente così un po' alla volta capisci tutti i legami che ci sono conosci la storia del malato e ahimè conosci anche la storia di quella malattia di quella malattia che purtroppo a volte conduce troppo prematuramente al fine della vita ecco il medico di famiglia ha questa peculiarità tra i tanti colleghi che che compaiono a fianco del malato e lo accompagnano fino alla fine della vita e è proprio un punto di collegamento o meglio deve essere un punto di collegamento tra appunto il malato e i servizi sanitari presenti sul territorio io parlo di territorio perché è il mio ambito quindi è ovvio che attraverso di me e attraverso la conoscenza che ho della situazione del paziente passa l'attivazione dei servizi disponibili sul territorio che sono l'unità di cure palliative e l'assistenza infermeristica domiciliare la seconda l'assistenza infermeristica domiciliare diciamo che eroga i servizi come dire più semplici fin tanto che la situazione del paziente è ancora ben compensata quando poi ci si avvicina una prognosi di vita breve allora naturalmente si deve ricorrere e per fortuna che ci sono qua ho il dottor Marzola che dirige l'unità operativa di cure palliative della mia ASL l'ASL 13 di Mirano Dolo e devo dire non lo dico per piageria perché è qui al mio fianco ma recentemente ho vissuto due esperienze nelle quali ho veramente come dire gioito insomma nel terribile contesto della vicinanza di questi colleghi lui e la dottoressa Pettenò che mi hanno veramente molto aiutato e con cui si è stabilito proprio un rapporto di collaborazione che è fondamentale naturalmente ecco dicevo che seguendo l'andamento della malattia proprio nella maggior parte dei casi a meno che il paziente non sia dimesso dall'ospedale e già il collega ospedaliero non abbia attivato il team delle cure palliative spetta a me nella mia ASL funziona così predisporre un modulo che invio via fax insieme con una telefonata per cui i colleghi prendono in carico il paziente e però ecco un altro passaggio che ci terrei a sottolineare è questo si può pensare e magari succede anche che nel momento in cui il paziente si pensa che abbia una prognosi di vita breve viene affidato alle cure palliative il medico di famiglia possa o debba uscire di scena in realtà non è questa la mia opinione in quanto appunto proprio per il ruolo che il medico di famiglia svolge e ha svolto nei confronti di quel malato e di quella famiglia io ritengo doveroso per il medico di famiglia continuare ad assistere il paziente anche nell'ultima parte del suo percorso ma non perché il dottor Marzola la dottoressa Pettenò i loro infermieri bravissimi che vanno a domicilio assiduamente dei pazienti terminali ne abbiano bisogno ma perché è doveroso proprio per questo rapporto di intimità di familiarità e di continuità che il medico di famiglia continui nella sua opera di accompagnamento questo come vi dicevo è estremamente doloroso è la verità in alcuni casi perché naturalmente ti confronti con con una realtà che soltanto chi come mi ascolta conosce comprende quanto sfaccettata quanto complessa sia anche perché sapete bene che i pazienti e ancora più i loro familiari nella stragrande maggioranza dei casi riescono a nutrire delle aspettative delle speranze che lungi da noi naturalmente deprimere o smorzare ma che vanno ben oltre il realismo della situazione e allora a noi tocca ed è giusto farlo naturalmente stare al gioco pur sapendo e soffrendo intimamente la conoscenza della realtà che purtroppo spesso è di un altro verso ecco allora nel fine vita noi entriamo in tutta questa dinamica e accompagniamo appunto in questa esperienza qui ho voluto usare l'esperienza l'aggettivo drammatica esperienza drammatica perché appunto come dicevo questa mattina oggi abbiamo sentito tanti tanti tipi di contributi secondo me ha fatto bene il dottor Cosimo De Chirico questa mattina a definire la morte non come una malattia ma come una fase della vita l'ultima fase della vita ovviamente perché obiettivamente serenamente è questo che costituisce la morte però in realtà la morte è veramente un'esperienza drammatica penso di non farvi nessuna rivelazione perché comunque ci si arrivi quale che sia la consapevolezza il distacco la separazione è sempre un'esperienza terribile ecco per cui insomma io penso che abbiamo ancora tanto bisogno di di formarci su questo e adesso vengo all'ultima sottolineatura che forse è un po' in controtendenza anche se qualcuno prima la dottoressa Valentina De Tommasi ha esposto il concetto del confrontarsi con il fallimento ecco io l'ho messa nella mia relazione non c'eravamo messi d'accordo con la dottoressa De Tommasi però in realtà io soffro questo questo momento perché della medicina i media danno lo sapete meglio di me una enfasi trionfalistica non passa giorno che non si senta celebrare qualche nuova presunta ammillantata cura contro il tumore qualche scoperta sensazionale che ci possa far vivere tutti sani e belli fino a 120 anni noi purtroppo conosciamo invece la realtà l'altra faccia la faccia oscura e conosciamo i limiti della medicina e quindi in qualche modo ci sentiamo anche traditi traditi e anche forse beh insomma è molto difficile accettare questa sconfitta anche se ovviamente ahimè sta nelle regole del gioco ogni volta che ti confronti con un paziente con una famiglia e li accompagni al fine vita tocchi il limite della scienza che eserciti e anche della tua funzione di sostegno e per questo che il medico e qui lo dico sinceramente senza vergogna il medico che avete sentito l'università non forma minimamente rispetto a questa frontiera della vita rispetto a questa dimensione della professione chiede di essere formato e di essere aiutato perché è certamente un momento altissimo della sua professione quello di accompagnare il paziente è certamente un momento veramente sublime ma che che ci deve vedere meglio preparati e più capaci di dare il sostegno e quella serenità che certamente raccontava di Chirico a volte esperimenti ma che non è così frequente ecco questo quindi è quello che io vi lascio cioè la necessità proprio di riflettere di continuare a formarsi e a ragionare insieme perché è un momento comunque estremamente delicato e ringrazio per questa bella occasione di formazione grazie 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 grazie